romaniasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. La marignanese di forza di coraggio col doppio uomo in più vince una partita maschia e nervosa che costa due cartellini rossi al progresso ma che rilancia l'ambizione in salvezza della compagine di Simone Lilli che raggiunge in San Pietro il terzo ultimo posto della gradatoria. Pronti e via, i tedeschi si invola verso la porta avversaria ma si divora così il vantaggio. La marignanese risponde direttamente al calcio piazzato, conclusione alta di penso al fine. Dalla parte opposta il progresso si rende nuovamente pericoloso. Sanso è bravissimo e veloce nel girarsi in area di rigore, Dito Passo altrettanto bravo nella risposta. Comodo passaggio di Mazzoli a inizio di ripresa per Albertazzi, giocatore cerca di impensare il portiere di casa con un tio dalla distanza. Proprio dall'invio di quest'ultimo nasce il gol del progresso. Sanchini affonda a Verniani per il direttore di gara, non ci sono dubbi, calcio di rigore. Dall'11 metri i tedeschi portano i vantaggi suoi spiazzando Dito Masso. Santoni, Pensalfini e Mazzoli siglano subito il pari. Proprio dall'esterno in maglia numero 7 parte il cross per l'inserimento di Pensalfine che sporca il pallone quel tanto che basta in direzione Mazzoli che da due passi fa 1-1. Non c'è tempo di respirare dalla parte opposta tedeschi. Come risposta ad astuzia cerca di procurarsi il penalty del 2-1. Ma il direttore di gara non ci casca, lo ammonisce per la seconda volta estraendo poi il rosso. Progresso in dieci uomini. Progresso che rimane poco dopo addirittura in nove uomini. I padori di casa chiedono un penalty che non viene sancito. C'è un gesto di reazione proprio davanti agli occhi del direttore di gara nei confronti del giocatore della Marignanese in maglia numero 10 Carnesecchi. E così nel finale la Marignanese fa male. E come se fa male? Prima Mazzoli fa le prove dei gol ma Bertazzi le spinge. Poi all'ultimo respiro Palazzi entra in area di rigore e buca così la resistenza di casa dando i suoi tre punti importantissimi che sanno di rilancio in classifica.